buonasera a tutti ciao ragazzi come state mi sentite bene come al solito scrivete pure sulla chat se mi sentite allora questa sera continuiamo le nostre lezioni su angular e questa sera trattiamo l'argomento sul data binding che spesso vedo che gli sviluppatori tendono a non sfruttare proprio a pieno vedremo sia nelle vecchie versioni come viene usato il data binding sia come viene usato in angular 17 che come ben sapete in angular 17 hanno cambiato un po il meccanismo di data binding hanno introdotto signal quindi se riusciamo e abbiamo il tempo vedremo anche come si fa il data binding attraverso signal ok diciamo che questa è la presentazione di quello che faremo questa sera chiuderemo verso le 23 come promesso e spero che insomma vi divertiate insieme con me in questa live in questa continua spiegazione sul mondo di angular che a me personalmente piace molto e se avete dubbi e domande scrivete tranquillamente in chat anche se non so non si sente bene non si vede bene non leggo bene i caratteri qualunque tipo di problema segnalatelo vediamo di porre qualche 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 rimedio va bene dai iniziamo che la lezione sul data binding è abbastanza abbastanza lunga vediamo di riuscire a completare tutto quello che vorrei dirvi ok iniziamo intanto per quanto riguarda facciamo ovviamente una nuova applicazione e magari questa volta vediamo di creare un'applicazione di solito cos'è che fanno tutti gli sviluppatori l'hello world è vero però in questo caso per introdurre il data binding vediamo se riusciamo a costruire un'applicazione di gestione dei task ok che può essere abbastanza propedeutica per quello che vi devo spiegare per chi non c'era l'altra volta praticamente vi faccio vedere a linea di comando come si crea un'applicazione angular mi mi spiace per chi non c'era la volta scorsa e quindi andiamo a creare una nuova applicazione e la chiaremo task manager task manager ovviamente come vi avevo detto una delle novità introdotte su angular era l'auto complete delle properties infatti premendo task avete visto mi ha auto compilato la linea di commando quindi qui metteremo skip test perché perché in questo momento non vogliamo creare i test ogni volta che vado a generare un componente qualunque cosa quindi andiamo creare la nostra bella applicazione qui come l'altra volta ci chiede come vogliamo gli stili se vogliamo in css scss il resto noi per il momento continuiamo col css questo ve l'avevo detto l'altra volta server side rendering e static site generation per il momento diciamo di no anche perché non raffronteremo e quindi aspettiamo un attimo e crea la nostra bella nuova applicazione angular aspettiamo qualche minuto da qualche minuto no dai qualche secondo la mia connessione spero che regca vediamo un po sta installando come vi spiegavo l'altra volta stai spiegando tutti quanti i pacchetti necessari per la complicazione dell'applicazione angular alla fine avremo comunque sia alla fine un risultato sarà html css e e quindi avremo la nostra web application creata apposta per noi attendiamo ancora qualche istante nel frattempo che sta installando tutti i pacchetti necessari alla compilazione ci vuole poco non vi preoccupate la prossima volta magari la credo direttamente io però volevo farvi rivedere di nuovo come si creava l'applicazione ok andiamo dentro task manager e lanciamo il nostro fido code ok a questo punto come avevo fatto avevo spiegato l'altra volta abbiamo dentro src tutto quello che riguarda la nostra applicazione lanciamo la compilazione per poter vedere anche da browser quindi facciamo ngs come vi dicevo l'altra volta preferisco usare i short key quindi e lanciamo cruma no qui lancia sempre firefox quindi chiudiamo questo e lanciamo il nostro fido chrome mettiamo le finestre una a fianco all'altra perfetto ok e iniziamo a vedere nella nostra applicazione come vi dicevo questa è l'applicazione di partenza noi ovviamente cosa andremo a fare andremo a cancellare tutto quello che c'è all'interno dell'app compone html salviamo e automaticamente verrà effettuato refresh in automatico di quello che andremo a vedere ok ora iniziamo a introdurre il data binding che cos'è il data binding è nient'altro che un meccanismo allora intanto l'applicazione angular e usfrutta il pattern mvc quindi praticamente c'è un controller che il nostro file ts e la view che il nostro file html ok ora qui abbiamo ad esempio una property una property che si chiama tight per farla vedere diciamo nella view in questo momento non la vediamo sulla fase sulla pagina sul file html non facciamo nient'altro che andare ad esempio creare un tag p che sta per paragrafo e iniziamo a vedere il primo il primo il primo data binding questo qui è un binding one way cioè dal controller ts verso la pagina view se io salvo automaticamente quello che è scritto su questa variabile viene visualizzata anche nell'html questo binding questo data binding è di tipo unidirezionale ok quindi abbiamo visto che se io creo qui una variabile automaticamente poi mettendo questo qui il banana brackets no il banana perché c'è un'altra cosa con le doppie graffe praticamente stampiamo a video quello che c'è nel contenuto di questa variabile ovviamente se io qui cambio e metto un numero automaticamente verrà stampato il numero ok quindi come vedete il data binding è molto molto semplice ovviamente una cosa che ovviamente in angular non si fa ma per fini e diciamo per farvi comprendere meglio come funziona facciamo un set timeout set timeout e qui facciamo una lambda function e siamo a un secondo qui facciamo un secondo qui facciamo che il title anzi richiamiamolo in mani corretto counter counter è uguale a 0 dopodiché qui cambiamo in counter e facciamo che vis.counter più più ok quindi cosa succede il set timeout viene eseguito questa lambda ad ogni secondo e incrementa il valore del counter se andiamo a salvare ecco giustamente bisogna salvare anche la pagina view cosa succede che a ogni secondo aggiorna la variabile e come come vedete qui viene aggiornato ovviamente non funziona sicuramente c'è qualcosa che non va se io non lo assegno ovviamente non funzionerà mai più uguale a 1 e si set timeout lo fa una volta solo devo fare un set interval giustamente ok e qui vedete che viene incrementato non si vede molto quindi magari facciamo uno style in line font size 22 pixel ok quindi adesso l'abbiamo magari aumentiamo un po di più mettiamo la 42 ok così lo vediamo un po più grande come vedete con poche semplici istruzioni senza dover definire di senza dover far che grandi cose e automaticamente si incrementa e vediamo in output il contatore che va avanti ok e questo è il nostro primo data binding ok ovviamente se io volessi potrei fare anche una stringa composta cioè se io metto un apice prova counter ok e volessi incrementare posso creare tranquillamente un'altra varia un'altra variabile somma ad esempio uguale a 0 e qui vado a incrementare la somma a questo punto per farlo vedere nel counter io qui nel html posso fare più somma che però l'ho dichiarata privata quindi togliamo via il private ok quindi salviamo salviamo e qui vedete che posso fare un binding facendo la somma di due stringhe ma come due stringhe somma è definita come number infatti questo si chiama infer the type cioè non definendo il tipo alla variabile somma assume automaticamente il valore iniziale quindi il tipo di somma è sempre number se io qui su somma rassegno una stringa come potete vedere me lo segnala come un errore perché perché c'è l'infer the type quindi somma in questo momento è tipizzato come un tipo numerico cancelliamo questo ok ovviamente questo diciamo può andar bene ma se vogliamo sfruttare appieno le funzionalità appunto del one way binding possiamo fare la string interpolation che cos'è la string interpolation prova counter non la vogliamo più aggiungere mettiamo il back tip in questo modo ok ovviamente mi dà un errore qui possiamo scrivere prova back tip e qui ci mettiamo così in realtà qui ti dice che non si può fare perché non riconosce questo tipo di carattere quindi quello che io devo fare per fare la string interpolation è fare questa cosa quindi qui faccio vis.counter uguale sempre con il back tip magari lo mettiamo così qui mi dice che è noto fa insomma perché perché devo metterci sempre vis ok vis somma ok quindi su counter che cambieremo metteremo titolo in maniera tale che sia un po' più comprensibile andiamo a salvare qui metteremo titolo salviamo tutto e automaticamente avremo la stessa risultato però in una maniera un po' più elegante come potete vedere è molto più leggibile che fare una stringa composta e quindi miglioriamo anche la visibilità del nostro codice e anche poi in un secondo momento che andremo a leggere il nostro il nostro codice sarà molto più interpretabile ok a questo punto abbiamo visto il one way binding quindi abbiamo una variabile e la facciamo vedere sull'html ok mettiamo ad esempio anche un'immagine ok quindi mettiamo un'immagine che immagine possiamo mettere andiamo a vedere un image andiamo a cercare mettiamo questa bella immagine ok facciamo copia indirizzo link e lo mettiamo qui ok ora se io salvo ovviamente come è il bello della diretta non funziona eh certo ho messo quello di google non funzionerà mai invece andiamo a vedere l'immagine andiamo a prenderci l'immagine eh no questa non mi va bene andiamo a cercare un'immagine vediamo questa perfetto prendiamo questo prendiamo l'indirizzo ok adesso abbiamo l'immagine magari la riduciamo un attimo come vi avevo spiegato nell'altra lezione invece di andare a fare degli styling line posso andare a modificare l'app component CSS e dire che l'immagine ad esempio la larghezza è il 20% del viewport width e l'altezza è il 20% del viewport height ok salviamo adesso l'immagine è un po' più è schiacciata è un po' più piccola ma facciamo così togliamo via l'alte così non la vediamo strecciata ok quindi abbiamo l'immagine supponiamo però che vogliamo fare un binding sull'immagine quindi prendiamo una seconda immagine prendiamo ad esempio questa copiamo l'indirizzo e ce lo mettiamo qui da qualche parte in maniera temporanea così ce l'abbiamo memorizzata ok ora cosa succede? noi vogliamo nel nostro componente metterci un bottone e cambiare questa immagine quindi andiamo a metterci un bottone ok e qui cambia l'immagine ora qui alla pressione del bottone vogliamo cambiare l'immagine come si fa? qui vediamo un altro tipo di binding come vedete abbiamo messo la parentesi tonda che significa che all'evento click del bottone deve eseguire qualcosa qui diciamo on cambia immagine ora in questo momento mi dà un errore perché? perché devo definire la funzione all'interno dell'app compone .ts come avevo detto prima il controller è il nostro ts il viewer è il nostro html quindi qui cosa mi sta dicendo se andiamo sopra viso studio code ci fa vedere un suggerimento di cosa dobbiamo fare e ci dice guarda che non cambia immagine non esiste in app component quindi noi cosa facciamo? non facciamo altro che creare una nuova funzione che si chiama on cambia immagine eccolo qui che ho scritto non lo so ok on cambia immagine e qui possiamo eseguire una qualche funzione che adesso andremo a definire definiamo una variabile che si chiamerà link immagine anzi url immagine immagine e assumerà il valore iniziale il valore iniziale di questa url immagine è questa quindi andiamo a prendere il nostro html eccolo qui lo andiamo a prendere ok lo mettiamo nella nostra variabile e per il momento non facciamo nulla a questo punto qui sul nostro html andiamo a dire di mettere l'immagine in molti fanno questo url immagine ok sembra funzionare l'immagine la vediamo in realtà facendo così non è proprio il modo giusto di farlo in angola perché e qui vediamo un altro data binding che è quello one way però in input cioè diciamo che all'attributo src del tag img deve assumere il valore di una proprietà voi direte ma non cambia niente no non è vero e adesso ve lo faremo vedere ok quindi non è cambiato niente continua a funzionare ma qui avremo dato avremo detto con la quadrata quindi assegniamo in input all'attributo src il valore che assume questa proprietà che troviamo qui ok se non è chiaro scrivete pure sulla chat che magari vedo di proporvi la stessa cosa in maniera diversa ok quindi questo è il modo corretto per assegnare una proprietà a un valore di un attributo il team di angular ha praticamente riscritto tutti gli attributi dei tag html quindi ad esempio avremo anche la stessa identica cosa sull'src e sullo style o su class ma ve lo farò vedere magari più tardi ok quindi è l'attributo src assumo urli immagine perfetto allora vogliamo che quando io premo questo bottone vedete non succede nulla io lo clicco ma no non succede nulla cosa vogliamo fare vogliamo che assuma il secondo link questo qui quindi lo tagliamo che facciamo qui facciamo nient'altro che dire vis.urli immagine uguale questo questo link qui magari scriviamolo bene ok salviamo continua a funzionare ma ora se premo il pulsante cambia immagine è cambiata ora non so se voi avete mai lavorato con plain javascript jquery eccetera per fare questa cosa bisognava scrivere un bel po' più di codice che non soltanto tre righe comunque quello che mi premeva vedere era che cosa è successo in realtà allora qui abbiamo l'attributo src con l'urli immagine alla pressione del pulsante con questo sintassi qui che significa assegno in output questa funzione viene qui esegue questo e assegna e riassegna a urli immagine questo valore ok e come vedete il risultato è questo molto semplice molto molto conciso ok come sta andando ragazzi vi vedo muti nella chat non vi vedo molto partecipi vabbè non volete scrivere va bene io pensavo fosse più una cosa interattiva ma vedo che ci sono va bene ok perfetto sono contento ciao Valerio così dico un po' di nomi e vi spoilerò un pochino i nomi di chi ci sta seguendo c'è anche Mattia ciao Matti aspe che devo aspettare non lo so va bene ok ora il progetto iniziale era quello di fare diciamo una sorta di task manager però ci serve un qualcosa in più allora proviamo a creare un array proviamo a fare un array di string quindi possiamo provare a fare un url images quindi diciamo che vogliamo creare un array list per chi non sa che cos'è un array list è nient'altro che una variabile che contiene tanti altri elementi ok quindi con il quadrato definiamo l'array e qui dentro ci mettiamo le nostre due belle immagini quindi prendiamo la prima taglia ma un incolla apriamo la prima e prendiamo la seconda che è questa ok niente continuo a tagliare non so perché vabbè e la mettiamo qui come vedete questa proprietà url immagine assume automaticamente sempre per l'inferred type questo ci viene in aiuto da typeskit assume automaticamente il tipo di string quadra quadra quindi è un array di string ok ora che possiamo fare con questa url images semplice vogliamo stamparla a video vogliamo far vedere una lista di immagini stringiamo questo che al primo momento non serve lasciamo tutto quanto così con me e andiamo a far vedere questa lista delle immagini in questo momento la facciamo molto molto semplice non vi spiegherò le direttive strutturali anche se per questa cosa dovremo un po' vederla però seguitemi un po' creiamo un div perché non voglio no creiamo la table preferite la table on div nessuna delle due è vero vorreste dormire vabbè facciamo una table allora facciamo table facciamo table ok e qui creiamo una riga all'interno della riga creiamo una colonna perfetto ora qui dobbiamo creare quante righe sono con quanti elementi ci sono nell'url image come si fa si usa una direttiva strutturale questa sera non spiegheremo molto però la vediamo un pochino di straforo così tanto perché se no ci annoiamo a fare soltanto le direttive con l'asterisco ve lo annuncio già è una direttiva strutturale non sto usando la nuova modalità di angola che ci viene da angola 17 ma sto usando la vecchia poi magari se volete vi farò vedere come si fa col nuovo comunque let url image url image off url images cosa sto dicendo sto dicendo che dall'array di url images per ogni elemento presente in questo creerà una riga tr nuova e avremo questa variabile url image quindi qui facciamo sempre i due graffe e mettiamo url image image ok salviamo ovviamente non va come ah giusto mi sta dicendo che manca il common modulo ok noi non portiamo adesso non vi spiego esattamente che cosa sto facendo sarà sicuramente una cosa che vi spiego la prossima settimana perfetto come vedete qui abbiamo due righe una con la prima url e poi la seconda ovviamente così non ci interessa molto andiamo a creare un image e ci mettiamo sempre come abbiamo visto correttamente fare le quadrate e ci mettiamo l'url ok andiamo a stampare e tada abbiamo un array list una tabella con tante immagini semplice no abbiamo nient'altro che aggiunto poche righe di codice abbiamo una tabella con diverse immagini perfetto ora facciamo che la pressione del cambio immagine questo pulsante facciamone uno fatto meglio dai non siamo pigri su andiamo a far così diciamo che qui in questo vis.url imagis facciamo una push per chi non sapesse push significa aggiungere all'array che abbiamo definito un nuovo elemento che ovviamente dovrà essere per forza una stringa perché tramite l'inferred type url imagis è un array di stringa quindi io non ci posso mettere un numero qui vedete me lo da come errore se io provo a salvare mi da sempre un errore ok ci mettiamo ah vabbè sempre la stessa immagine ok andiamo a metterlo qui dentro certamente se magari metto anche l'apice ok salviamo ok non è cambiato nulla ma adesso se io cambio immagine è cambiata qui ma ha aggiunto un nuovo elemento ha aggiunto un nuovo elemento e continua a aggiungere man mano che io clicco aggiunge nuovi elementi semplice no? guardate guardate aggiungo sempre nuovi elementi ok certo così diventa un po' noioso perché è sempre la stessa immagine si replica sempre la stessa è sempre la stessa cosa è un po' un po' un po' noioso e quindi che facciamo vediamo un altro elemento di data buying ovvero il two way data binding che cos'è il two way data binding abbiamo visto il data binding unidirezionale dal controller verso l'html anche questo è dal controller a un attributo però dovremmo ci manca da un elemento html che setta il valore di una di una property di un qualcosa quindi in html andiamo a definire un tag input vediamo se c'è eccolo qui certo che sto facendo una cosa brutta ok input ok ora dobbiamo qual è lo scopo se io qui inserisco qualunque tipo di stringa dobbiamo associare quello che inserisco in questo input a una variabile a una property ok che viene esposta sul dal controller ok quindi qui sull'app component ts andiamo a definire una variabile ok che chiameremo textbox input di tipo stringa ed è uguale ad apice apice cioè una stringa vuota ok a questo punto dobbiamo dire che quando io inserisco qui qualche valore lo assegni questo textbox input e me lo faccia vedere ok la variabile abbiamo definita andiamo sull'html mettiamo un nuovo paragrafo qui ci mettiamo il nostro belle parentesi graffe e mettiamo la scritta textbox input ok stesso io salvo tutto ok non è cambiato niente non vedo perché perché non c'è nessun valore iniziale se io qui metto a questo punto lo vedrei però va bene non è questo adesso il senso ok perfetto ora se io scrivo devo trovare il modo di dire quello che io digito qui dentro assegnalo alla variabile text input come faccio qui ci viene in aiuto il banana brackets cioè io faccio la parentesi quadra quindi in input con la parentesi tonda che abbiamo visto prima quando abbiamo definito l'evento di click in output ng-model e adesso vedremo che cos'è questo ing-model uguale che cosa a textbox input ora qui mi sta dando un errore perché perché mi dice che ng-model non è una property conosciuta ora aggiungiamo questo ve lo spiegherò meglio la prossima volta quando andremo a interpretare i template model e i reactive form ok però qui dobbiamo aggiungere il form model modulo ok una volta che abbiamo definito questo qui è sparito l'errore poi vi spiegherò meglio nella prossima lezione che cos'è che ho fatto però sappiate che bisogna aggiungere per poter fare esempio un binding bidirezionale su ng-model e quindi usare un text input bisogna importare questo forms modulo che mi mette a disposizione tutta una serie di cose per poter proprio gestire in maniera semplice i form ok quindi ho importato questo ho definito il banana brackets come ng-model in questo modo e adesso se io inizio a scrivere come vedete quando io scrivo automaticamente cosa avviene sotto la scocca quando io scrivo viene mandato c'è il meccanismo di change detection di Angular che manda al controller il cambiamento di questo text box quindi il valore che c'è qui dentro lo manda questa variabile text box input e poi noi la facciamo vedere nel paragrafo ovviamente se io qui invece di metterci una stringa vuota ci metto test e salvo automaticamente vedete che me lo mette anche nel text box input perché? perché appunto gli ho detto che è un binding bidirezionale quindi se cambiamo per qualunque motivo ad esempio se io qui cambio immagine qui scrivo qualcosa voglio cambiare il valore del testo che faccio? non faccio nient'altro sempre nel nostro metodo cambio immagine dire dire vis.textbox input uguale immagine cambiata cambiata niente stasera sono un po' dislessico ok quindi ha messo test cambio immagine come vedete ha cambiato il valore sia nella text box che sia nel paragrafo ok molto semplice quindi io potrei stampare questo valore da qualunque parte anche nell'attributo alternative dell'image come si fa a settarlo nel tributo alternative dell'image parentesi quadra textbox input ok adesso io salvo vado sopra avremo l'alternative dell'immagine ora in questo momento non so per quale motivo non si vede però se andiamo a fare l'ispezione elemento vedrete che l'alternative è uguale a test da notare che mentre noi nell'html l'abbiamo definito con la parentesi quadra vedete lui nel risultato l'ha messo come alt come un attributo html la cosa carina di angular è che quindi se ci facciamo fare delle pagine dal nostro grafico di fiducia le modifiche da dover fare allo stile o comunque sia all'html è molto minimo perché basterà aggiungere questi nuovi costrutti ai vari tag e non dovremo modificare molta 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 grafica insomma perché ce l'avremo già pronta avremo già il nostro grafico quindi sarà molto semplice ok avete dubbi vi è chiaro volete che vi rispiega qualcosa no vero eh c'è qualcuno va bene andiamo avanti ok siete curiosi di vedere anche il signal come funziona come cambia eh volete vedere come funziona il signal volete vedere come si fa in angular 17 e vediamo un attimino cosa cambia in angular 17 spero per chi vede queste cose la prima volta non trovi troppo confusionario fare lo switch tra il vecchio modo e il nuovo diciamo che mi preme farvi vedere come si faceva una volta cioè potete continuare a farlo anche adesso diciamo che io visto quelle le innovazioni che hanno messo il suo angular 17 e la velocità che è stata introdotta preferisco usare usare signal ok quindi se io voglio usare signal in questo ad esempio nel modello qui in questo textbox input non faccio nient'altro che dire che questo è uguale a un model vedete che già me lo suggerisce di tipo stringa perché model è un generic type quindi gli dico model stringa aperta tonda chiusa tonda a questo punto qui sto usando signal adesso va in errore ma lo sistemeremo ok se andiamo a vedere lui ha importato model sempre da angular core ok quindi qui abbiamo definito il nostro modello ora siccome signal diventa una funzione a tutti gli effetti qui aspettate giustamente mi dice qual è il valore iniziale qui avevamo messo primo avevamo messo test e vabbè stasera non riesco a scrivere test ok ovviamente continua a non funzionare perché perché qui sull'on cambio immagine avevamo cambiato il textbox input come si fa in signal a modificare una variabile tipo signal abbiamo due modi uno è l'update ok e adesso vi spiego anche la differenza quindi update ok e si bisogna dargli narrow function mettiamola anche tra le grappe ok e mettiamo un bel return ok magari sistemiamo un codice così copita meglio punto e virgola ok quindi qui stiamo dicendo guarda la variabile textbox input che è una variabile tipo signal viene cambiata il suo valore questo è un modo il secondo tramite il set che cambia tra i due adesso ve lo vedremo magari con l'array possiamo fare con il set il set ovviamente cambia leggermente perché vuole la variabile di ingresso che sarebbe il suo valore attuale e la variabile di uscita quindi qui va bene in questo momento non cambia niente però poi vedremo cosa serve la variabile di ingresso perché il set non fa la sovrascrittura dell'intero valore del textbox input ma lo aggiorna ok vabbè dopo vedremo meglio magari nel 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 formarray nel frattempo vediamo l'update ok salviamo ok qui è la prima differenza come potete vedere mi salta fuori stampigliato quadra model signal test perché perché con signal a questo punto non è più una property ma è una function quindi salviamo a questo punto abbiamo ristabilito il valore di prima e se cambio funziona esattamente come prima voi direte e vabbè qual è l'innovazione lasciatemi un attimino e vi farò capire bene cosa significa cambiare questa questa modalità andiamo a cambiare anche le altre variabili quindi le facciamo diventare tutte quante signal quindi questa è signal sempre con la parte di sitonda mi dice che devo importare signal quindi update anche questa la facciamo diventare di tipo signal sempre con valore 0 ok anche l'url image signal andiamo alla fine ok quindi abbiamo definito questo l'array per il momento lo lasciamo così come vedete qui mi dà l'errore su set interval quindi anche qui facciamo un update altro punto non facciamo con le graffe ma facciamo la stessa cosa sì ok qui identico ok vediamo la fortuna che abbiamo messo poche variabili sennò stavamo qui fino a domani a cambiare ok mi state seguendo fino a qui? sì perfetto qui adesso è tutto quanto a posto ovviamente qui non vedo più niente mi dà una serie di errori di compilazione perché? perché sono diventate delle funzioni quindi in html qui devo metterci la parentesi tonda qui devo metterci la varietta di tonda qui è a posto così è a posto ok ed è ritornato tutto come era prima ah no c'è il signal 0 vediamo un po' dov'è che l'avevamo messo ah giusto giusto adesso mi viene in mente ok qui avevamo fatto la string interpolation per andare a far vedere il valore nuovo come vedete qui non si aggiorna più sembra un errore in realtà non è un errore perché? perché titolo è vero che l'abbiamo definito qui però somma dovremmo definirlo come funzione a questo punto è ritornato a funzionare però guardate non si aggiorna il valore 0 perché? perché quando cambia il valore di somma siccome è una function qui ti dà il primo valore della valore assa del valore di somma ma una volta che viene scatenato 7 interval o comunque sia che viene aggiornato il valore di somma lui lui non sa più non sa più come fare quindi che facciamo? dobbiamo cambiare questa logica e introduciamo un'altra cosa di signa che si chiama ad esempio risultato test è uguale a computed perché sarà un valore calcolato da due variabili o meglio in questo caso sarà da una sola variabile o meglio possiamo farlo calcolato da titolo e da somma che dovrà aggiornarsi quindi è un valore computed quindi è calcolato ogni volta che cambia il valore di una variabile e qui daremo la risposta ok ora qual è la risposta? dobbiamo prendere il valore del titolo anzi facciamolo ancora più carino prendiamo il valore del textbox input val1 uguale vis punto textbox input poi prendiamo il valore di somma const cont uguale a vis punto somma ok e il ritorno sarà quello che volevamo fare noi ok quindi lo mettiamo qui perfetto a questo punto nel set interval che dobbiamo fare? dobbiamo dare che vis punto somma punto set il valore precedente e ritorna value più 1 perché? perché qui vogliamo incrementare mettiamolo tra parentesi graph perché? value che si nota segniamo parameter number perché? ah giusto qui lo tipizziamo signal come il model ha la possibilità di tipizzare il valore ok e a questo punto qui è scomparso ah giusto devo fare un update non col set update questo non mi serve più ritorna di spunto insomma poi vi spiego perché non funzionava e ritorniamo il valore incrementale se è tutto a posto adesso andremo a vedere se funziona mi sembra che non funzioni che cosa ho sbagliato vediamo un attimo visse somma visse somma è giusto in html nella nostra stampa mettiamo soltanto il titolo che adesso non ha più senso di esistere vedete come è importante tener pulito il codice e in realtà noi vogliamo far vedere il risultato test quindi qui mettiamo risultato test e a questo punto abbiamo la funzionalità di prima se io adesso cambio non cambia niente vogliamo mettere questa scritta all'interno di questa che facciamo questo qui il textbox input è certo se qui non non lo valorizziamo qui possiamo mettere sconto e qui possiamo mettere sconto magari e qui possiamo mettere il valore di 1 val 1 ok e adesso abbiamo come potete vedere cambia il testo qui e continua ad aumentare il contatore qui abbiamo quasi fatto tutto di signal e in realtà ci manca l'url images tipo v no dai v non è proprio così diciamo che tu puoi avere tanti computed perché io potrei avere un altro un'altra property di tipo computed che fa altre cose il computed su v è leggermente diverso lì sul computed v se non ricordo male cambia completamente il view model quindi prepara l'oggetto di risposta da far vedere poi nella view se non ricordo male qui invece il computed è utilizzato quando voglio fare delle elaborazioni su altre variabili di signal in pratica sotto cosa succede succede che quando io metto ad esempio in questo caso textbox input e somma e metto questo computed e lui ascolta fa la change detection su queste due variabili di signal su questa e su questa e se cambia una delle due ridà il valore quindi una cosa simpatica che ci permette di fare signal è cambiare il change detection da change detection default all'on push e vabbè adesso magari è un po' troppo prematuro per farvi capire qual è la differenza tra il default e l'on push diciamo che se mettete un change detection o non push la change detection di angular lavora molto meglio quindi è molto più reattivo molto più veloce e molto più immediato ok e quindi vedete che continua a funzionare tranne se mettendo l'on push se io adesso premo il pulsante cambia immagine che qui avevamo fatto l'urly push prima avevamo visto che aggiungeva si io faccio cambia immagine continua a funzionare sinceramente non mi aspettavo che funzionasse vabbè ok ora cambiamo anche per questo array lo facciamo diventare un signal anche questo signal ok di tipo string array e lo facciamo assumere al valore iniziale dopodiché qui dovremo fare un update in realtà qui urly images punto set anzi no un update proprio un update ok qui facciamo return this punto urly images facendo il distruttore dell'array quindi mettiamo punto 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 virgola e ci mettiamo la nostra immagine questa qui ok virgola questo ovviamente qui mi danno errore perché è una function quindi abbiamo fatto la destrutturazione dell'array che ci arriva da signal ci abbiamo aggiunto un nuovo valore ovviamente dobbiamo cambiare anche nell'html vedete che mi dà l'errore e qui mettiamo pretesi tonda tonda ok salviamo funziona tutto come prima ma se io faccio cambio immagine vedete che continua a funzionare infine hanno cambiato nella versione di angola 17 le direttive praticamente strutturali possiamo usare il nuovo modo e quindi invece di mettere star ng for facciamo chiocciola for non c'è più bisogno di definire let quindi url image of url images adesso lasciatemi fare questa cosa poi vi faccio vedere come si cambia questo non serve più ok qui dà un errore perché bisogna a questo punto dire sempre il track i url image track by aspettate un attimo asterisco or angular non ricordo mai se track track eccolo track url image questo perché perché avevo notato il team di angular che definendo la direttiva strutturale nessuno metteva il track by e quindi quando avevi degli array come in questo caso nessuno andava ottimizzare beh nessuno in realtà qualcuno lo faceva però diciamo non erano moltissimi praticamente t'hanno forzato a fare un track by qualche cosa allora o si mette il track con la variabile di definizione oppure possiamo anche mettere track by index ok è la stessa identica cosa funziona nella stessa identica maniera ok quindi vedete diventa molto la sintassi molto più più leggibile in questo modo rispetto alla direttiva strutturale è sempre una direttiva strutturale perché cambia il codice html ma così diventa molto più leggibile ok ora però all'inizio vi ho detto proviamo a vedere se usando i data binding riusciamo a fare un'applicazione per gestire i task ok quindi se ci immaginiamo un'applicazione per i task che cosa ci dobbiamo immaginare ci dobbiamo immaginare una input come vi ho spiegato la possibilità di aggiungerlo e magari un checkbox per dire se quell'attività è stata fatta oppure no ok quindi è un'applicazione abbastanza semplice molto molto facile da fare con gli elementi che abbiamo dovremmo riuscire a farla quindi andiamo così possiamo anche creare di nuove componenti vi faccio vedere anche altre due cosine ok andiamo a creare allora i componenti se noi ci immaginiamo questa applicazione avremo un componente di testata quindi andiamo a generare un componente che chiameremo header ok poi andremo a creare un componente che chiameremo task ok e basta avremo questi due componenti a questo punto rilanciamo il server andiamo cancellare via tutto quello che abbiamo fatto in questo momento perché non è propedeutico la nostra applicazione andiamo cancellare questo andiamo cancellare questo e andiamo cancellare questo perfetto ok andiamo nell'html e andiamo vabbè certo non ti ho salvato e andiamo a mettere questi due nuovi componenti app meno header e app meno task e l'altra volta avevo fatto vedere come creare i componenti qui in questo momento dà un errore perché come vi spiegavo l'altra volta dobbiamo importarli perché sono degli stand alone component se noi andiamo a vedere il nostro i nostri due nuovi componenti header è uno stand alone quindi non viene più definito come una volta all'interno del modulo ma è uno stand alone component quindi dobbiamo dichiararli dove vengono usati come facciamo andiamo sull'app component andiamo sull'import e qui metteremo header component e task component perfetto una volta che li abbiamo importati come vedete non ci dà più l'errore andiamo a salvare anche ah tac tac l'ho chiamato task compone o tac compone come l'ho chiamato task task ok task magari se riesco a scriverlo correttamente ok sono riuscito vedete headers works task works ok nel leader metteremo nient'altro che un'intestazione molto semplice quindi mettiamo un h1 e definiamo gestione task molto semplice perfetto il task cosa dovrà far vedere dovrà far vedere nient'altro facciamo un div e qui lo definiamo andiamo sul nostro CSS e diriamo raw ok anzi task raw quindi definiamo lo stile task raw gli diciamo che è un display flex flex direction raw gli diciamo che la larghezza è al 100% perfetto a questo punto dovremmo essere pronti qui mettiamo class raw ok quindi il primo elemento sarà un tag p che sarà che so preparare la cena qui va bene preparare la cena preparare la cena ok e andiamo a vedere preparare la cena e poi un input type checkbox ok per dire se è fatto o non fatto perché non lo mette in line display flex 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 direction raw stranissimo lo mette in style in line vediamo un attimo che cosa succede display blocks si display block task crew eh task crew magari se mettiamo la classe giusta eccolo qua quindi abbiamo definito il nostro task avremo dovremo avere la possibilità di aggiungere task rimuovere task o contrassegnarlo come è finito ok ora andiamo sul nostro app component oltre a questi task aggiungiamo un bottone per dire aggiungi task ok aggiungi task e dovremo mettere anche un input box di tipo task box per definire per definire il task quindi mettiamo anche una label tanto per essere un po' più precisi e dirgli nome del task ok perfetto quindi abbiamo nome del task qui vogliamo mettere il task aggiungere task cosa dovremmo fare quando tu premi questo pulsante automaticamente sbiancherà quello che ho inserito e aggiungerà il nuovo task ok quindi che ci serve che dobbiamo fare a ragione di logica dobbiamo avere sicuramente un array di task quindi abbiamo visto anche signal quindi andiamo andiamo a sfruttarlo elenco tasks ora qui qualche purista forse potrebbe dirmi che dovrei scrivere in inglese ma siamo in italiano non stiamo scrivendo un'applicazione in italiana a sto punto variabili magari metto un po' in italiano però qualcuno potrebbe dirmi vabbè ma task proprio non sarebbe proprio italiano vabbè non ci importa quindi diciamo signal di tipo e facciamo una semplice stringa al momento ma in realtà non è corretto non è corretto perché perché qui avremo la stringa la descrizione del task e un checkbox che definirà se il task è completato oppure no e alla pressione no magari potremmo anche metterci un bottone senza metterci lo checkbox magari questa è l'evolutiva che facciamo in un secondo momento quindi che dobbiamo fare qui però la stringa non si sposa molto per la per la cosa e allora che facciamo facciamo le cose fatte bene in questo momento lo metto qui per non dover creare un ulteriore file definiamo una interfaccia che chiameremo task task e che conterrà questa interfaccia e avremo il nome del task ok e avremo se è fatto fatto due punti boolea quindi il task sarà anzi non ho fatto ma completato ok quindi avremo il nome del task e il completato si no ok quindi qui questo variabile signal non sarà di tipo stringa ma sarà di tipo task un array perché vogliamo avere più task qui mi sta dando l'errore perché devo dargli un valore iniziale perfetto e quindi con questo abbiamo il nostro elenco task a questo punto andiamo sulla parte html e ovviamente come abbiamo visto prima e come ci permette di fare angular 17 facciamo chiocciola for let task off task come l'abbiamo chiamata elenco task elenco task elenco task punto e virgola track task ok e qui ci mettiamo una bella prentese graffa così qui eh sì perché il let non serve ho esattamente tanto abituato a mettere il let che invece non serve più una nuova versione stesso salvo ovviamente non vediamo più nessun task ovviamente però se qui all'inizio facciamo un invio ci mettiamo un array una una graffa quindi un oggetto json vedete che mi dice siccome l'ottipizzato gli ho detto che è task qui cosa mi dice guarda che ti mancano le seguenti property nome task è completato come tanti fanno se tutti mettono any non c'è più un errore e quindi se io vado a compilare la cosa funziona quindi io qui potrei metterci qualunque cosa potrei fare pippo due punti apice apice però non avendo nessun controllo sintatico sul tipo di valore che c'è questo lento task il compilatore non mi dà nessun errore quindi molto meglio definire l'interfaccia assegnarla e a questo punto ho un errore a compile time preferisco avere errori a compile time piuttosto che run time preferisco accorgermi io personalmente di avere un errore di aver sbagliato il nome di una variabile piuttosto che ce l'abbia l'utilizzatore finale quindi cambiamo diciamo nome task prova virgola completato tre punti pulse ok e così ho gli elenco task però purtroppo vedete ciò prepara la cena con il checkbox però io qui ho un prova è un completato in effetti se andiamo a vedere la nostra pagina app component html e qui ci si ho la variabile task però l'app task non ce l'ha e qui ci viene sempre in aiuto il data binding in questo caso però è un data binding tra un componente padre e un componente figlio come faccio e in questo momento vi faccio vedere al vecchio modo che comunque sia continua a funzionare faccio chiocciola input ovviamente devo importare questa classe all'interno del mio componente e definiamo il nome task di che tipo è questo task ed è per questo che avrei dovuto creare un file esposto ma a questo punto lo facciamo in questo momento facciamo move to a new file mi crea il file task quindi posso usarlo da qualunque parte da notare export che significa che questa interfaccia viene esportata e quindi può essere importata da altri componenti di tipo task vedete che mi mette il simbolino di interfaccia e posso importarlo ok quindi me l'ha importato questo è un valore task ovviamente mi dice guarda che però questa task non è inizializzata quindi non è definitamente non è assegnata e quindi qui cosa faccio dico task oppure undefined e così ho risolto il problema perfetto ora però c'è questo input che significa chiaccio la input significa che questo componente si aspetta cioè si può aspettare in ingresso come un attributo il questo questa property task di tipo task come si fa andiamo sul nostro app component quindi il padre e come abbiamo visto prima facciamo una quadra una quadra prima l'abbiamo usato per l'SRC di un image qui le usiamo una quadra per dirgli che il task quindi la variabile task del componente figlio assumerà che cosa il valore di task quindi dal padre lo passo al figlio ok se adesso io salvo guardate non succede assolutamente nulla perché perché abbiamo passato la variabile qui ma non l'abbiamo mai usata e dobbiamo usarla qui dentro quindi qui come abbiamo visto col data binding precedentemente facciamo task punto nome task e qui il value value è uguale a task punto completato ok da notare che l'intellisense mi ha messo il punto di domanda perché perché qui abbiamo detto che può essere di tipo task o indefinito quindi lui per fare in modo che l'applicazione non vada in errore ci aggiunge il punto di domanda il punto di domanda è nullico al hashing che significa che se questo è valorizzato allora prende il valore nome task altrimenti non fa vedere niente in realtà per questo componente questo task deve essere required salviamo il tutto e vedete che prova funziona come abbiamo detto però task è una variabile required e finalmente il team angular ci ha dato la possibilità in input di dire che questo variabile è di tipo required quindi l'undefined qui lo posso togliere e voilà ovviamente mi dice sì però non è comunque sia non è inizializzato perché comunque sia bisognerebbe assegnargli qualche valore quindi gli diciamo con il punto esclamativo eliminiamo il problema che cos'è il punto esclamativo gli diciamo guarda stai tranquillo al compilatore diciamo stai tranquillo che questa variabile sarà inizializzata quando tu istanzierai il componente se io salvo ecco continua a funzionare ok ora qui dobbiamo fare in modo che scrivo qualche cosa e aggiungo il task prima di tutto dobbiamo disabilitare il bottone quando ovviamente il textbox è vuoto quindi entriamo sul nostro html qui dobbiamo ancora creare la funzione poi di aggiungi task però intanto ci occupiamo del disable quindi qui mettiamo la parentesi quadra gli diciamo di disabilitarlo quando quando un'altra variabile che ancora dobbiamo definire quindi quando quando testo textbox è vuoto andiamo a creare questa variabile andremo a chiamarlo nome nuovo task anche qui la definiremo come signal ovviamente servirà per ricevere il valore del textbox input quindi facciamo model di tipo stringa e lo inizializziamo ad apice apice ok quindi qui abbiamo definito questa nuova property tipo signal andiamo qui e qui cosa dobbiamo dire se nome nuovo task punto length è uguale 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 a 0 ok non so se sapete la differenza tra uguale uguale e 3 uguali ma sapete la differenza scrivetemelo in chat sapete qual è la differenza tra 2 uguali e 3 uguali tic 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 nessuno che risponde nessuno ma c'è qualcuno in chat vediamo un po' in chat che c'è sì c'è gente l'identità in che senso identità identità che vuoi dire praticamente 2 uguali fa un controllo non sul tipo esatto quando fai esattamente esattamente bravi quando io metto 3 uguali fa il controllo sia sul valore e sia sul tipo se io faccio 2 uguali fa anche la conversione questo ad esempio è utile quando ad esempio usate delle stringhe e non volete che vengano spacciate per dei numeri o con i booleani ok però solitamente è sempre meglio mettere 3 uguali ok quindi 3 uguali facciamo uno stick type equal ok quindi nome task lent uguale uguale a 0 salviamo e vedete che il bottone si disabilita e appena io scrivo qualcosa non funziona perché perché all'input devo dire devo assegnare a questo input il valore che io inserisco nella textbox e come si fa e abbiamo visto prima quadra tonda ngmodel uguale e qui mettiamo nome nuovo task salviamo e andiamo a vedere se funziona wow funziona ok ora dobbiamo agganciare il bottone aggiungi task quindi andiamo a definire il click andiamo a definire una function per ricevere per andare a inserire questo task quindi facciamo on aggiungi task allora vi faccio una confidenza in realtà suggeriscono di non mettere on quando si definisce una funzione che accetta un click io sinceramente mi trovo bene a definirlo on perché riesco a differirla anche da altre function che magari mi servono per altre cose qui l'intellisense mi dà la possibilità di aggiungerla in automatico vediamo se l'ha aggiunta no ha aggiunto una cosa che non c'entra niente una volta c'era dire il vero ah declare method eccolo qua finalmente l'ha aggiunto ovviamente la mettiamo qua sotto così la mettiamo dopo il costruttore e solitamente io metto le variabili sopra il costruttore costruttore sotto le function e alla fine i private function sempre e comunque sia in camel case anzi in pascal case ok ok ora in on aggiungi che dobbiamo fare dobbiamo aggiornare l'elenco task con il nome nuovo task non dobbiamo andare a controllare se è vuoto oppure no perché abbiamo disabilitato il bottone quando è vuoto cioè se io qui metto vuoto si disabilita quindi l'utente non può aggiungere quindi è inutile fare il controllo se il nome nuovo task ha o non ha qualche cosa di scritto quindi che faccio non faccio nient'altro che fare un vis punto elenco task punto update e che dobbiamo fare dobbiamo fare un return come abbiamo fatto prima con le immagini quindi un spread operator vis punto elenco tasks virgola e qui dobbiamo creare un nuovo oggetto perché questo array elenco task contiene un elenco di array di tipo tasks quindi che facciamo andiamo a dire nome task due punti il valore che abbiamo ricevuto in input quindi vis punto questo sempre con la parte esitonda e il completato ovviamente di default sarà false ok molto semplice andiamo a salvare vediamo se funziona facciamo cena aggiungi task e non funziona non funziona certo perché non abbiamo salvato rifacciamo di nuovo cena aggiungi task e voilà abbiamo la possibilità di aggiungere più task però guardate il nome delle task rimane sempre lo stesso questo per l'utente è un po' forviante no come facciamo a sistemare questo problema molto semplice oltre a aggiornare l'elenco task facciamo vis punto nome nuovo task punto update ok qui una funzione anonymous function vuota vis punto no e return apice apice salviamo e vediamo se adesso funziona tutto a posto aggiungi task vedete si sbianca e si disabilita il bottone e non mi sono dovuto preoccupare del bottone disattibilitato perché perché l'abbiamo fatto prima in maniera automatica l'abbiamo già previsto quindi vedete è già automatico è già tutto quanto a posto perfetto ora però vogliamo migliorare un attimino questa questa gestione dei task ok abbiamo fatto le funzionalità però cosa vogliamo far vedere vogliamo far vedere quanti task rimangono da completare quindi prepariamoci nell'html magari qui mettiamolo qui facciamo un bel paragrafo ti rimangono da completare n intanto mettiamo n tasks ok quindi dobbiamo riempire questo task come facciamo riempire questo task andiamo sull'app component definiamo una nuova property numero tasks da completare questa come abbiamo visto sarà una computed perché è un valore computato cioè è un valore calcolato sulla base di altri signal in particolare dovremmo prendere this punto elenco tasks punto dovremo filtrarli per tutti quelli che non sono completati quindi tasks task scusate task punto completato mettiamoci un note quindi tutti quelli non completati punto length ovviamente qui ci dobbiamo mettere un bel return ok quindi questa questa signal questa function signal che è un tipo compute quindi sulla base della variazione di questo signal si aggiornerà perché notate che siamo sempre nella change detection push ok dovremo far vedere metterla qui dentro quindi salviamo andiamo nel nostro app component html e qui ci mettiamo doppia graffa e numero task da completare salviamo e voilà se io metto cena aggiungi mi dice sono due task se io metto che ne so cosa possiamo aggiungere qualcos'altro lezione aggiungi mi dice tre task ovviamente però se io clicco vedete che non funziona certo non abbiamo non abbiamo fatto niente nel task per quando clicca la checkbox come si fa come si fa allora ritorniamo al nostro task quindi vedete avendo dei componenti spostandomi da una parte all'altra riesco a differenziare dove sono dove dove mi trovo quindi lavoro su un componente poi passo un altro componente e continuo a migliorarlo e poi orchestro tutti i componenti in maniera tale che funzioni all'unisono ok allora ritorniamo dal nostro codice qui quando cambia il valore della checkbox dobbiamo segnalare al nostro componente padre che il valore è cambiato e qui ci viene sempre in aiuto il data binding in questo caso living listener ok cosa facciamo quando viene cambiato il valore della checkbox dobbiamo chiamare una funzione ok eh sì perché dobbiamo intercettare dalla view e trasmettere qualche cosa al model quindi qui faremo on change completato dato task ok on change completato task ovviamente non esiste noi andiamo a dichiarare il metodo e lo mettiamo qui è qui eccolo qui come l'ha creato io come al solito lo sposto in giù mi dice true new error questo lo cancelliamo e sistemiamo anche andiamo a vedere se l'on change fa il caso nostro facciamo un console log completato e andiamo a vedere andiamo sulla console ok proviamo a cliccare su questo postone eh no non change non funziona non funziona però perché dobbiamo fare non change noi possiamo anche farlo con il gmodel però no no non è quello che vogliamo fare come possiamo fare magari possiamo riusare il nostro click vediamo un po' se io clicco adesso funziona vedete perfetto allora andiamo qui nel long change completato task che significa significa che quando premeremo il checkbox noi dobbiamo cambiare il valore di completato di questo task allora se io faccio task punto completato la cosa più semplice che mi verrebbe da fare è questa this not this punto task punto completato però se io faccio questa cosa in realtà lo sto dicendo solo al componente io invece ho la necessità di dirlo al componente padre devo dire al padre guarda che io sono completato perché voglio aggiornare poi questo questo numeretto qui devo dire guarda ti mancano zero elementi ok quindi che faccio qui ci viene in aiuto un'altra un altro elemento che è l'output un altro binding che è l'output l'output che mi dice è il contrario dell'input cioè invece di ricevere trasmette al padre qualche cosa qui diciamo cambiamento task chiamiamolo così cambiamento task uguale new event emitter più event emitter mettiamoci anche il task ma di tipo task ed ecco qui praticamente ho definito una diciamo un evento che il task il componente task trasmetterà al componente app quindi al padre adesso vediamo se vi riuscirà più carico quindi quando noi premeremo questo checkbox questo di ogni figlio dovremo trasmettere dovremo dire this punto cambiamento task punto emit quindi emetti un nuovo valore che valore gli diciamo qui ovviamente ci viene in aiuto l'intelligence dice value quindi che dovremmo trasmettere this punto task ok ora se io salvo e faccio questo non è cambiato nulla ma il vero cambiamento è quando associeremo in binding ok al singolo task qui se io adesso apro la tonda come avevamo fatto per il click in questo momento abbiamo un nuovo property che è quella che abbiamo appena creato cambiamento task quindi qui definiremo una funzione un task cambiato intanto la definiamo così adesso vedremo un'altra cosa la dichiariamo dichiariamo il metodo quindi ha creato il metodo sempre col true new error lo spostiamo qua sotto ok togliamo via il true new error ok perfetto in questo momento ha funzionato ci mettiamo però un console log qui per vedere se effettivamente al componente padre arriva questa segnalazione facciamo una prova non funziona niente è certo se non salvo troviamo eccolo qua vedete componente padre arriva questa notifica di output quindi vedete cosa ho fatto ho definito nel task figlio una property magari se ci vado una property chiocciola output cambiamento task che è uguale a new event meter di tipo task perché questo qui è un generic type quindi diciamo questo qui emetterà un valore di tipo task quando premo viene chiamato questa guardate facciamo anche così così magari forse vi riesce anche più più comodo figlio figlio ok magari si mettono la punta in virgola anche giusta ok adesso io clicco figlio e padre vedete nell'ordine prima figlio viene messo il padre gli abbiamo detto di prenderlo e di chiamare questa funzione on task cambiato e quindi arriva qui certo che però così non mi è di grande aiuto perché avrei necessità di passare a questa funzione il task che cambia quindi qui avrei bisogno di task due punti task ok per cambiare qualcosa se io salvo in questo momento mi dice eh no guarda che nell'html però mi hai chiamato la funzione senza passare nessun nessun parametro è certo bisogna passargli che cosa se andiamo a rivedere qui abbiamo detto che questo event meter di tipo task e noi emettiamo una segnalazione passandogli la variabile task quindi il problema è nel nostro html qui dobbiamo dirgli chiamo questa funzione e passami quello che è passato all'event meter come si fa dollaro event mettendogli dollaro event è il tipo definito da questo quindi dall'event meter e lo passa sopra se adesso andiamo qui mettiamo una virgola task ok e salviamo il tutto e salviamo il tutto andiamo a vedere premo figlio componente padre e vedete che ciò parola è completato a false quindi che devo fare adesso ho tutto avete visto quindi con dollaro event passo il valore dell'event meter a questa funzione ok come faccio adesso per aggiornare gli elenco tasks è molto semplice facciamo this punto elenco task punto a questo punto non facciamo più un update perché sarà una modifica su un elemento quindi set però però c'è un però c'è un però tasks io devo identificare univocamente qual è il task ok non so se vi è chiaro io qui devo identificare qual è il task ora cosa facciamo possiamo aggiungere sulla nostra interfaccia un identificativo quindi mettiamo id due punti number e vedrete l'importanza anche di definire tutti tutti i tipi tutte le variabili se io adesso salvo mi dà tutto un insieme di errori perché mi dice guarda che hai aggiunto una property id e quindi dovresti correggere il codice se mettevo any ovviamente non non cambiava allora qui era l'aggiunta quindi sistemiamo un attimo il codice qui ci manca la property id e quindi banalmente qui facciamo un id a sto punto facciamo una cosa facciamo un cost elenco tasks è uguale che non voglio riplicare ogni volta questa cosa ok quindi mettiamo un altro punto elenco tasse vabbè elenco tasks e quindi qui faremo un elenco task punto length più uno ok mettiamolo a posto così leggete bene ma poi se non vi ho chiesto riuscite a leggere il mio monitor tutto a posto volete un font più grande riuscite a vederlo sì nel senso che volete un font più grande o sì riuscite a leggerlo che domande che faccio eh mi va bene così sì entrambe ah sì nel senso di entrambe volete un font più grande va bene va bene certo che se metto un font più grande poi non ci sarà più così che dite ok magari questo lo rimpiccioliamo perfetto ok quindi qui abbiamo definito l'id ottimo perfetto qui mettiamo un id uguale a 0 andiamo a vedere se compila no mi dà un altro errore l'app component riga è 55 certo perché qui a questo punto abbiamo l'id dobbiamo identificare l'elemento che facciamo abbiamo i tasks quindi facciamo un find task da cambiare è uguale a tasks.find quindi andiamo a prendere dall'array il task avente l'id uguale uguale al task.id cioè facciamo una find dicendogli prendimi da questi tasks e cambiali perché da questo problema perché ok intanto andiamo a definirlo poi lo sistemiamo ok quindi andiamo a definire qui a questo punto task da cambiare è uguale eh sì ma c'è ragione perché in realtà qui devo comunque sia niente non riesco a farvi vedere il set ok devo fare cost tasks uguale a this punto elenco tasks ok quindi da tasks eh sì magari se li metto la prentesi tonda ok file find task da cambiare quindi punto completato è uguale al not task da cambiare punto completato ok quindi abbiamo aggiornato il task qui ovviamente mi dice che non posso fare un'assegnazione con i punti domanda nulli colleshing quindi if task da cambiare mettiamolo così quindi se lo trova ok e lo assegna ok qui ovviamente devo aggiornare l'elemento e fare un return tasks è sbagliato ve lo dico già questo codice qui è sbagliato però vediamo andiamo avanti poi lo sistemiamo ok a questo punto vediamo un po' se funziona clicca figlio però vedete non ha aggiornato perché sbagliato perché l'update significa sovrascrivere sempre i tasks ora facendo questo codice sto dicendo prenditi di nuovo i task assegnare questa variabile file find e cambia il valore di questo ok quindi in realtà qui è molto più giusto fare così elenco tasks ora facendo il set l'enco tasks value is not read ok quindi qui c'è elenco tasks però non gli piace non gli piace is not sensible parametri eh questo è un write table task qui ci ho messo questo perché non va mentre l'enco task implicit as an any type set value eh no ma c'è ragione non posso farlo così devo farlo per forza così devo farlo per forza così e ci avete ragione questo l'elenco tasks e ritorno elenco tasks vediamo se va continua a non andare fatemi vedere un attimo per quale motivo il tasca ha cambiato completato è uguale è cambiato proviamo a metterlo intanto a true vediamo un po' se io metto true è cambiato figlio qui ci arriva in effetti aspettate un attimo perché lui ha bisogno qui di avere un nuovo valore eh vediamo un po' esatto perché perché non funzionava prima perché quando facciamo l'update dobbiamo dare un valore di riassegnazione all'update di signals quindi devo ricreare un oggetto è per questo che volevo usare il set perché con il set invece se io faccio così devo fare set qui elenco tasks dovrebbe essere definito così elenco tasks uguale a vis punto elenco tasks ok però è noto asenable tov parameter into call viss expression fatemi vedere un attimo vabbè stasera non riesco a farvi vedere il set comunque bisogna ricreargli l'update ok e quindi glielo rissegniamo così perfetto e come vedete la funzionalità che ci eravamo dati all'inizio funziona adesso non ha ricompilato perché il codice è lo stesso vediamo risalvare vediamo un po' salviamo niente non vuole saperne ok elenco tasks qui abbiamo eliminato prima il componente padre ok così lo rimettiamo perfetto ok come vedete però abbiamo un altro problema perché? perché qui prima avevamo cambiato poi non l'abbiamo più sistemato quindi rimettiamo il not qui all'inizio perfetto e adesso clicco clicco perfetto ed è il funzionamento che volevamo all'inizio forse il checkbox è proprio un po' bruttino eh facciamo una cosa andiamo qui invece di metterci un checkbox che poi bisognava fare sta cosa non era carino e facciamo bottone un button con scritto completato ok e al click facciamo questo ok andiamo a vedere completato però vedete si cambia però dovremmo dargli un aspetto un po' un po' più credevole dobbiamo migliorarlo un attimo come facciamo e qui vi faccio vedere un'altra direttiva strutturale allora ve la faccio prima vabbè ve la faccio in data binding visto che stiamo facendo vedere il data binding facciamo task punto completato punto di domanda questo completato oppure non completato ok task completato sì magari si mettono anche due punti qui qui ho usato un operatore alternario quindi se la variabile è true mi fa vedere completato se la variabile è false mi fa vedere non completato ok qui mi sta dicendo guarda il task qui non è più nullabile perché prima le abbiamo detto se vi ricordate il task era quel punto sclamativo quindi è sempre valorizzato ok gli abbiamo detto oppure che è un required quindi se creo questo componente senza definirgli il task vai in errore del compilatore quindi siamo proprio con pile safe ok se adesso salva abbiamo non completato certo ho invertito completato e non completato ok andiamo prova completato clicchiamo e voilà come vedete il pulsante cambia sulla base se è completato o non completato certo è che così è un po' un po' bruttino a me piacerebbe magari intanto metterci un po' di spazio questo paragrafo e magari quando è completato farlo vedere sparrato no e quindi come si fa intanto proviamo a creare lo stile allora lo stile qui avevamo il task row ok peraltro l'altra volta avevamo fatto l'host che non funzionava non eravamo riusciti a capire per quale motivo non andava poi sono andato a vedere bene il codice html e c'è un motivo allora questa cosa sinceramente vederla per definire una classe di un componente è un po' mi sta un po' stretto ok quindi io posso cancellare questo div ok ovviamente se lo cancello adesso lo vedo lo vedo sgranato e qui questo task row fare un due punti host l'host significa due punti host significa che diamo questo stile all'intero componente salviamo e come vedete ci siamo risparmiati un div e ci abbiamo lo stesso identico risultato a questo punto al paragrafo gli diciamo di dare un po' di immarginatura così lo stacchiamo un po' sia dal bordo sinistra sia dal bottone il bottone magari lo facciamo un po' più stilizzato quindi ad esempio possiamo dirgli un background color green ci mettiamo un bel border radius che ne so a 5 pixel andiamo a vedere un po' facciamo a 20 pixel e magari il colore lo mettiamo white così si vede anche un pelino meglio insomma non è che proprio sia vedremo come stilizzare meglio i componenti magari quando non so se aggiungeremo quando vi farò vedere quando aggiungeremo tie wind ok e il padding facciamo 0.5 ram ram ok no 5 ram è troppo poco facciamo 0.8 facciamo 10 vabbè no 0.10 non va bene facciamo un ram dai ecco qua così è un po' completato non completato ovviamente vogliamo che quando si è completato è verde quando vogliamo non completare si è rosso quindi definiamo una classe sul button punto non completato magari se lo aggiungo il button è meglio se vi ricordate l'altra volta vi dicevo un po' di css dovete comunque sia conoscerlo perché queste cose sono i selettori di css questo significa che il bottone deve avere la classe non completato qui se questo è il mio bottone quando sarà non completato ci vogliamo mettere un background color di tipo red ad esempio facciamo rosso così se l'utente vuole tornare indietro lo facciamo vedere magari rosso adesso vedete non cambia niente perché perché dobbiamo fare il data binding il data binding su che cosa sulla classe sulla classe di che cosa qui sul bottone ng class se vabbè è uguale ok qui cosa dobbiamo definire dobbiamo dirgli tanto mi dice che non è definito eh vabbè allora diamo un oggetto qui gli diciamo il valore non completato e qui dobbiamo dirgli qui dobbiamo dirgli di usare scusate il valore di this task punto completato ora l'ng class non è definito fatemi vedere un attimo certo perché common module adesso qui è definito ora è un po' verus possiamo mettere anche ng class ok nell'import così visto che abbiamo usiamo i stand alone component invece di usare tutto il common module possiamo definire soltanto l'ng class andiamo a vedere adesso se funziona ancora non funziona perché perché il il valore della classe qui non è non è definito vedete scusate sistemiamo un attimo ok non completato salviamo qui salviamo qui andiamo a vedere eccolo qua ok come vedete quando cosa abbiamo fatto andiamo a vedere un attimino che cosa abbiamo combinato nell'html abbiamo usato questa 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 qui è una direttiva ok e ng class è una direttiva andiamo a vedere andiamo a verificare se è una direttiva se andiamo qui è una classe e se andiamo a vedere dentro no non è una direttiva è una classe e basta però non credevo fosse una direttiva vabbè non è un problema ok e quindi ritorniamo nel nostro codice questo possiamo chiuderlo quindi andiamo qui abbiamo detto all'ng class quindi cambia il valore class di questo bottone mettendoci non completato o niente al valore del bottone ciao masso ciao mettendoci il valore non completato quindi la classe non completato al bottone ok sullo base se questa variabile true false cioè se io metto true qui senza definire così guardate magari se ci metto trovo il true vedete anche completato cioè se viene associato alla classe non completato se è true o false ok quindi qui facciamo visit task appunto completato ok quindi questa variabile quando è true ci aggiunge la classe non completato quando è false la toglie e abbiamo questo bel effetto 1 2 vedete quindi se aggiungo anche lezione posso aggiungerlo se aggiunge e qui posso divertirmi con i due bottoni ora il layout proprio non ci siamo per migliorarlo un attimo che andiamo andiamo sul nostro host invece di fare un flex possiamo fare una grid qui possiamo fare un grid template column dire un 1fr e un auto già facendo questo vedete il bottone viene spostato magari la widget possiamo fare al 50 del viewport width ok quindi lo fermiamo qua ok e quindi salta fuori decisamente più più carino magari possiamo anche dire di spezzare margin facciamo un margin top di 0.5 ram ok così vediamo un po' cena aggiungi viene spessato facciamo delle righe un po' più carine ok come vedete con poche righe di codice neanche un'oretta e mezza insomma siamo riusciti a fare un'applicazione javascript web e che fa la gestione di tasca ovviamente qui che cos'è che manca manca la persistenza certo se io ricarico cena l'ho persa ma questo è il tema di un'altra lezione ora per completare però facciamo un giochetto di stile ok qui vi ho fatto vedere l'input diciamo senza signal in realtà con la versione di angular 17.3 hanno cambiato anche questo e possiamo usare il signal quindi lasciando perdere questi li mettiamo vari commentati ok definiamo che task è uguale a un input punto required di che cosa di task ok quindi questo questa riga qui è uguale a questa è la stessa identica cosa ci manca l'output e sempre nella versione angular l'input l'hanno fatta nella versione 17.2 se lo ricordo male l'output era fatta nel 17.3 quindi definiamo cambiamento task è uguale ad output stapolta e dobbiamo definire è un output di tipo task ok quindi stiamo modificando il codice per dirgli che questa è una variabile di input ovviamente qui mi sta dicendo guarda non è assegnabile come come vabbè c'è un errore dice non è valido ok perché si cambia cambiamento task punto emit bis punto bis punto task is not assignable imparsi giusto eccolo qua perché l'abbiamo cambiato questo qui è diventato un signal questo l'abbiamo cambiato tutto quanto in signal ovviamente qui dovremmo andare a cambiare ovviamente tutto quanto in signal anche questo ok magari apriamolo un attimo qui abbiamo cambiato in signal andiamo a salvare andiamo a salvare se no con questo andiamo a salvare tutto ok andiamo a vedere se funziona aggiungiamo cena e sembra funzionare vedete sembra funzionare tutto però adesso usiamo signal certo che duplicare ogni volta il task non è proprio agevole qui vi faccio vedere una nuova direttiva strutturale sempre introdotto con signal in angola di 317 che è il chiocciolo if ok qui in realtà non sarebbe necessario però io posso fare questa cosa task quindi se questo è valorizzato quindi non è undefined entra qua dentro e assegna il valore di questo segna a questa variabile temporanea io questa potrevo chiamarla task pippo ok o task pluto ma è sempre la stessa identica cosa quindi ho un nome che funziona soltanto in questo blocco quindi rimettiamo task guardate task task qui task qui task salviamo e funziona di nuovo come prima ok quindi qui abbiamo completato tutto sì andiamo a vedere qui qui è cambiato tutto quanto andiamo nel nostro app component andiamo a vedere qui certo che leader abbiamo messo take o task vabbè poi possiamo anche cambiarlo e qui abbiamo usato signal a posto abbiamo tutto quanto con la nuova modalità ok che ve ne sembra semplice no è andato troppo veloce troppo c'è qualcosa che non vi è chiaro potete scriverlo sulla chat a me piace le dirette in twitch proprio perché ci può essere questa iterazione tra tra chi stream e chi e chi chi ascolta insomma la mia idea era proprio questa eh che vi sembra ragazzi hanno fatto dei bei passaggi con Angular 17 chiaro e sintetico e che gentile troppo gentile vabbè abbiamo siamo riusciti pure a finire qualche minuto prima rispetto devo rivedere alcune cose cos'è che devi rivedere magari può essere utile anche agli altri comunque vedete conoscendo alcune poche cose si riescono a fare già delle applicazioni carine all'inizio mi rendo conto che forse può sembrare un po' caotico soprattutto la suddivisione in componenti però se riuscite a comprendere bene come a dividere come dividere la vostra applicazione in piccoli componenti vi risulterà molto semplice perché dovrete ragionare soltanto sul singolo elemento non dovrete ragionare sulla sulla sull'applicazione della sua completezza ma ragionate in singoli pezzi in singoli elementi e lì fate la logica e ragionate su cosa deve essere messo su cosa deve essere in input quindi input output e via dicendo già soltanto dividendo l'applicazione in tanti piccoli blocchetti vi semplifica molto lo sviluppo e soprattutto poi quando andrete a rileggere il codice magari tra un anno riuscirete a capire che cosa avete fatto ma non è solo discorso se lavorate in team di farlo vedere al team ma proprio anche per voi stessi io mi sono reso conto quando praticamente ho iniziato a sviluppare che dopo qualche anno il codice che avevo scritto non riuscivo più a comprenderlo è come se io avesse scritto un tema e dopo qualche anno vado a rileggerlo e non c'è non riuscivo più a leggerlo perché la mia scrittura era cambiata e non riuscivo più a capire cosa avevo scritto ecco insomma quindi anche i nomi delle variabili date dei nomi delle variabili e delle funzioni che siano autoesplicative e quindi che si capisca insomma che cosa vuole che cos'è quella variabile poi volete usare sempre l'inglese volete usare l'italiano questo vostro piacimento e anche sulle linee guida che vi dà o il vostro project manager o il team leader o chi che sia oscuro se siete voi usati un certo tipo di style code usate sempre lo stesso una volta che avete preso quella decisione portatela avanti l'altra volta vi ho fatto vedere come ad esempio aggiungere l'inglint proprio per fare il controllo sintattico del codice quindi per andare a vedere se c'erano degli errori del tipo che ne so invece di usare sempre l'apice singolo magari usate negli import un apice singolo poi magari un apice un apice doppio ragazzi avete qualche altra domanda avete qualche dubbio data binding spero di aver coperto tutto quello che c'era da dire se avete domande vediamo anche di risolvere se volete potete anche scrivermele in questa chat oppure potete scrivermi anche più avanti vedo magari di raccoglierle poi magari vediamo di risolverle assieme non so io avevo anche una mezza idea di pubblicare il codice che sviluppiamo assieme magari su repository github voi che ne pensate vi può piacere potrebbe essere utile che ne dite eh stasera vi vedo un po' un po' moscetti non siete molto o state già mangiando le uova di pasqua o vi state preparando per le vacanze oppure state pensando questo si è spiegato per due ore ma è una palla mai vista che potrebbe anche essere e io però vorrei anche migliorare se suggerite qualche cosa io sono tutto orecchi o meglio sono tutto occhi visto che vi leggo e voi non potete in questo momento parlare con me però io posso leggervi vi leggo vabbè dai si fa per scherzo quando si farà più complesso sicuramente sarà utile per adesso penso di riscriverlo io sì ecco una cosa ci tenevo a dirvi se non scrivete voi delle applicazioni potete seguire tutti i corsi che volete ma non non servirà a nulla quello che vi suggerisco è create una vostra applicazione magari semplice prendete magari dei casi di uso reale che può essere il task potreste creare una rubrica dei nomi createvi una vostra piccola applicazione e provate a scrivere voi direte sì però costa fatica eh sì ragazzi purtroppo è così per imparare le cose bisogna bisogna faticare ma soprattutto siate curiosi eh indagate perché ad esempio vi ho fatto vedere la change detection però non ve l'ho fatta vedere tanto bene che vuol dire change detection provate ad andare a vedere che significa change detection eh che cosa significa eh che cosa comporta andate a vedere ad esempio io una cosa che ho fatto e vi suggerisco di fare è quello di andarmi a prendere il codice sorgente di angular per andare a vedere come scrivono eh il team di angular per andare a vedere come scrivono loro cosa come usano le variabili che style code usano a parte che se andate a vedere su angular.io c'è una style guide eh sulla scrittura di applicazioni angular però è utile vedere anche come scrivono gli altri non volete andare a vedere perché magari è troppo complesso l'applicazione angular e andate a cercare su github dei progetti open source creati in angular cercate magari di progetti che siano insomma abbastanza seguiti e che vengono mantenuti così potete vedere anche gli altri come scrivono e se proprio volete fare un investimento potete anche scaricarvi qualche tema anche se ve lo sconsiglio perché non tutti i temi sono fatti bene e soprattutto si tende cioè non è che non siano belli da vedere sono bellissimi da vedere però poi dal punto di vista strutturale l'applicazione angular si sposa non viene scritta per creare applicazioni angular mi spiego meglio perché così sembra che denigro i temi precompilati no è che la necessità di creare un tema precompilato è quello di creare le pagine html gli stili per fare il tema quindi si pone più attenzione sugli style sulle classi e su l'html piuttosto che sull'applicazione reale quindi è molto utile i temi perché li potete usare per customizzare la vostra applicazione ma però non la consiglierei per andare a vedere poi come si scrive un'applicazione angular perché per vedere un'applicazione angular bisogna vedere proprio quelle applicazioni che sono fatte apposta per soddisfare esigenze e va bene ragazzi vedo che non avete altre domande spero la lezione vi sia stata utile che vi sia piaciuta se avete commenti anche negativi fatemelo sapere io vorrei migliorare questa esposizione insomma questo percorso che sto facendo con voi ci aggiorniamo lunedì alla stessa ora spero di ritrovarvi tutti ci aggiorniamo buona serata buon fine settimana buona Pasqua ciao a tutti